e siamo arrivati a 14 che sono i minuti dopo le 11 di questo martedì 6 febbraio e qui su radio fm1 stiamo ascoltando daniele silvestri la coda del disco di monetine ma noi adesso come avevo già annunciato abbiamo degli ospiti oggi parliamo di benessere di saluti di stare bene con se stessi ecco abbiamo matteo colibazzi e ivana tiburzi insieme che sono dei personal trainer insieme alla massa fisioterapista giorgia luciani ai quali do il benvenuto ben trovati ragazzi buongiorno buongiorno sono tre giovani ragazzi che appunto fanno parte dell'accanto mai personal che è una ce lo spiegheranno direttamente loro anzi non voglio dire niente perché comunque sia ecco matteo e ivana hanno creato questa realtà la quale poi si è giunta giorgia luciani e hanno creato questa realtà che è diversa dal concetto di palestra ecco usuale che noi siamo abituati a credere vero matteo esatto proprio così cessica perché otto anni fa esso quasi nove abbiamo iniziato con un percorso che era quello di garantire alla popolazione noi siamo in un bacino d'utenza che pare piccolo ma è abbastanza ampio perché raccogliamo tramandola fino alla zona di grotta zolina assolutamente ricordiamolo che siete a piani proprio di palerone e quindi cercavamo di creare una sinergia tra il personal trainer e la nutricionista e garantendo un servizio nel quale nello stesso posto le persone potevano trovare sia il personal trainer che il nutricionista quindi ferendo un percorso senza fare i mille giri che di solito si fanno quindi venendo da noi trovano sia la figura professionale del personal trainer che grazie all'accompagnamento della nutricionista possono seguire il proprio percorso prima invece era c'ho l'intrusionista in ascoli devo sentire l'intrusionista e poi penso il trainer in basso a quello che gli consiglia l'intrusionista e seguo invece avendo tutti nello stesso punto c'è un lavoro e il risultato è quasi garantito e beh certo assolutamente quello ci vuole la buona volontà delle persone è la base senza di questo ve lo dico per esperienza personale è così è così e quindi voi avete ovviamente maturato un'esperienza no prima no di formare accanto mai personal immagino no avevate dei percorsi magari differenti io e iva ne abbiamo fatto quasi tutto insieme perché siamo lavorati insieme abbiamo fatto scienze motore urbino poi man mano ci siamo maturati tra virgolette facendo percorsi sempre all'interno dei palestri oppure centri utilizzativi è sempre vari corsi aggiornamenti è certo e quindi proprio accanto mai personal c'è proprio già dal dal nome insomma ti fa intendere che è una cosa molto personalizzata che c'è un lavoro proprio di base sulla persona rispetto magari alla palestra normale che dove vai per esempio a fare i pesi no appunto la differenza è anche questa non c'è la classica scheda allenamento ogni persona è seguita in base al proprio obiettivo e un allenamento ecco mirato alla persona che può essere sia il giovane sia la persona di mezza età sia la persona diciamo tra virgolette anziana quindi ogni persona ha il suo metodo di allenamento ed è seguito per quello che deve fare insomma ecco è una cosa quasi personal one to one ma in un in un contesto di massimo otto persone all'ora ecco quindi è una cosa abbastanza mirata è mirata assolutamente poi ogni peculiarità ogni persona appunto ha le sue problematiche e voi appunto li seguite in maniera cioè rispetto magari veramente a le palestre normali dove ci sono sterminate persone che magari ognuno ha la propria scheda e fa il suo e diciamo che non c'è una cura diciamo per il dettaglio ecco esatto sin se non la togli appunto le altre palestre che hanno la scheda classica invece noi l'abbiamo eliminata perché abbiamo visto che le esigenze erano diverse esatto quindi un allenamento sempre più poli multifunzionale era migliore di quella classica scheda e magari per chi ha determinate esigenze è congeniale venire da voi piuttosto che magari in una palestra normale questo volevo intendere esattamente cioè magari ci sono poi ne parleremo con la masso con la dottoressa il masso fisioterapista insomma che ci dirà appunto quali sono le maggiori problematiche no eh però quello che voglio dire è è un percorso che possono fare sia i giovani che hanno voglia di tenersi in forma no come dicevamo anche prima è molto importante rimarcare questa cosa perché se uno pensa al personal trainer pensa quelli prima di tutto quelli delle star di hollywood no perché noi siamo molto terra terra quindi ecco questo ci tenevamo a dirlo che è un ambiente molto familiare quindi la base è questa siamo una grande famiglia e poi c'è anche l'allenamento che ovviamente ha la sua valenza però la cosa basilare che ci differenzia dalle altre preste è la familiarità quindi tipo le festività le persone si portano come il medico dei basi chi ci porta il prosciutto e chi ci porta le straffe che le castagnoli poi dopo è un cane che si riporta da cosa esatto poi dopo tornano perché devono smaltire tutti i prodotti tipici che che vi portano e questa è anche la bellezza di questa cosa è anche questo si crea una fiducia non sei un numero ma sei una persona è questo è questo che è importante rimarcare di accanto my personal e ci tengo perché ho letto le vostre recensioni che sono veramente molto tutte molto positive sul sito ecco veramente e appunto stavo dicendo che il personal trainer in realtà appunto viene visto come una figura un po così no cioè nel senso lontano da quello che ci potrebbe servire nella quotidianità e invece è una cosa secondo me per ben venga che c'è appunto questa realtà perché è molto più personalizzata e raggiungi meglio gli obiettivi a mio avviso sia che sei giovane sia che sei anziano soprattutto assolutamente infatti quando siamo partiti questa cosa era molto lontano in luce per la nostra zona invece gradualmente l'abbiamo l'abbiamo fatta conoscere e col tempo ci siamo tolti qualche soddisfazione ah sì 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 tipo abbiamo creato grandi grandi eventi e poi abbiamo soprattutto anche con le nostre cene dove si aggiungono persone che sono altre palestre perché si divertono con noi quindi nonostante tutto che fanno fanno attività in un'altra struttura vengono da noi perché comunque sia la familiarità porta questo è certo quindi certo ma quali sono i percorsi di allenamento se posso chiederti Ivan cioè proprio come funziona avete dei macchinari delle attrezzature particolari lavoriamo principalmente in maniera funzionale corpo libero con piccoli attrezzi e ogni persona ha il suo spazio il suo piccolo ambiente di lavoro e si crea un percorso diciamo mirato e specializzato per la persona lavoriamo principalmente in maniera funzionale perché è una modalità di lavoro globale cosa vuol dire funzionale magari per chi sta ascoltando significa senza l'utilizzo di una macchina che ti fa lavorare magari un distretto muscolare specifico quindi si lavora in maniera più armonica si lavora in maniera più armonica quindi lavori tutto il corpo in un esercizio anziché lavorare in maniera settorializzata ho capito è molto importante questo sì assolutamente e poi ci sono ovviamente avete deciso di integrare all'interno di Accanto My Personal una dottoressa una massa fisioterapista che è Giorgia Luciani che appunto ha incentivato ha arricchito ulteriormente il vostro percorso con la riabilitazione eccetera ce ne vuoi parlare Giorgia? Sì certamente per me il lavoro di collaborazione è fondamentale all'interno proprio della 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 palestra dell'attività proprio funzionale ai fini di portare la persona a fare un buon allenamento quindi educare la persona alla giusta postura durante la anche nell'attività quotidiana poiché al giorno d'oggi sappiamo quanto sia importante prevenire dal punto di vista dell'apparato muscolo scheletrico e quindi la mia il mio contributo serve proprio per dare un aiuto a questa parte importante del del nostro centro che è l'allenamento e oltre a ciò mi occupo anche come abbiamo già detto della riabilitazione ortopedica di tutto quello che riguarda il recupero di infortuni di traumi fisici grazie anche alla collaborazione con il poliambulatorio adiacente sì esatto e e anche la ginnastica posturale benvenga certo beh te lo dice una che sono iperlontosi quindi è un senso importantissimo ciò che è un cicli di riabilitazione praticamente di posturale a non sia ai tempi insomma per cercare di correggere di correggere tutte le le posture non corrette assolutamente e invece quelli preventivi percorsi preventivi nel senso che allora riabilitativi quando no ok uno c'è già il problema preventivi invece che servono per appunto incentivare e ad esempio la persona a fare determinati esercizi ai fini poi di svolgere il giusto allenamento in palestra ad esempio quindi di educarlo a determinate posture ma anche una prevenzione finalizzata sul ripristino fasciale forse mi esprimo con termini un po complicati però al punto di vista della terapia manuale cerco di riequilibrare la persona di riportarle in uno stato ottimale ai fini di fare il giusto esercizio in palestra ho capito e masso fisioterapista no è una figura che magari non tutti conoscono ok o comunque che viene associata comunque alla fisioterapista no masso fisioterapista fisioterapista ci puoi spiegare un attimino certamente allora il masso fisioterapista è una figura sanitaria diciamo che ci sono dei ruoli che riguardano sono in comune tra le due figure sì ovvero quello di effettuare la riabilitazione ortopedica ma a differenza del fisioterapista non mi occupo di ciò che riguarda la parte neurologica quindi tutto quello che riguarda l'ambito sportivo ok la parte traumatologica va benissimo ma la differenza è che non non ci occupiamo di quello che è la parte neurologica che è prettamente tipica del fisioterapista ho capito questa è la differenza essenziale certo certo assolutamente e e quali sono le criticità che più spesso ti capitano alla canto my personal per lo più mi capitano problemi ad esempio molto a livello di schiena zona proprio di schiena dolore a livello di schiena e problemi anche di appoggio dei piedi quindi problemi a dolori dei piedi diciamo tutto ciò che riguarda l'apparato muscolo scheletrico riguardante posizioni scorrette o dolori ormai cronici e ci credo perché sono abituato tutta una vita ad una determinata postura che per lui è naturale ovviamente poi magari con il passare del tempo magari non andando a creare una prevenzione si rischia di di avere dei dolori futuri improvvisi tra l'altro però si possono risolvere però si possono risolvere assolutissimamente in sinergia in sinergia proprio con il lavoro che facciamo fra di noi nel centro account my personal personal viene da noi ecco esatto racconta noi facciamo l'anamnesi tra virgolette quindi sappiamo un po' della sua storia e poi da lì noi decidiamo in comune accordo se farlo valutare un attimo una dottoressa e poi da lì insieme sviluppiamo il percorso più idoneo per la persona ovviamente la persona viene da me prima con una valutazione medica certo e poi si fa il lavoro diciamo in sinergia proprio per tenere la persona nel miglior benessere possibile certo certo no assolutamente stavo pensando appunto questo che magari ecco appunto uno fa una visita dal medico vedi che c'ha determinate cose dice ok mi servono mi serve un posto per andare a fare queste cose per andare a sistemarmi vado da accanto e appunto c'è un trainer una una masso fisioterapista che mi aiutano appunto che fanno un percorso personalizzato e soprattutto mirato sulle mie esigenze sì esatto alla base di tutto è il movimento che crea benessere poi il movimento che è viziato se ben curato e ben indirizzato porta un po' più benessere quindi questa è la base di tutto certo certo e invece a voi è capitato qualche situazione ecco quali sono le situazioni che vi capitano più spesso che vogliono dimagrire? Allora noi vengono tra virgolette le situazioni molto particolari che nelle altre palestre vengono più tra virgolette abbandonati perché li mettono a fare 50 minuti di cardio perché lo vedono come un caso impossibile e lì e basta da noi invece non perché noi ripeto siamo migliori ma quando questa persona che è in sovrappeso si trova in difficoltà non è strutturato solo file cardio perché è una persona che non conosciamo la storia della sua nutrizione e viene così buttato là nella mischia e noi ci facciamo lo studio sotto perché con la nutrizionista se la nostro anche uno esterno vediamo quello che mangia perché una persona che sta una settimana senza carboidrati fa 50 minuti di tappeto quello cade per terra dopo due minuti perché non c'ha una forza quindi da lì noi cerchiamo di adattare questa alimentazione con l'allenamento e viceversa così creiamo appunto un miglior benessere per lui e non subito ma nel tempo ponderatamente vedere una perdita di peso. Eh certo no stavo pensando anche questo che di solito ecco viene visto quando uno deve dimagrire no comunque deve cioè come una tortura esatto ok diventa una tortura perché viene privato praticamente di tutto e deve sottoporsi a degli sforzi che per lui ovviamente per lei sono abnormi. Dopo succede la demotivazione, non viene più. Cioè lasciano una, lasciano aperte dopo due volte. Esatto specialmente se stai lasciando da solo abbandonato lì e farei parte con mi tocca andare quando parte con mi tocca andare nell'arco dei giochi non viene più quindi ecco dopo vado a Giorgia perché diceva ti fa male la schiena questi 120 kg devo male per forza schiena. Eh certo. Eh vabbè questo è più che giusto insomma. Quindi è un giusto vizioso. Esatto avete trovato questa modalità che può essere congeniale appunto. Noi ci crediamo poi ci vediamo nel tempo però che è venuto noi abbiamo un caso che ha perso, un ragazzo ha perso, non facciamo il nome che è comunque dalla nostra zona, ha perso 90 kg quindi una persona. Credite. Sì, è un lavoro dei tre anni. Strutturato adesso. Beh certo perché poi non si può, i magrimenti veloci non sono credibili. No, come dice l'effetto yo-yo no? Che prima perdi poi riprendi e da noi adesso man mano ha trovato il suo benessere anche tra virgolette una vita anche sociale quindi si è fidanzato, cioè è ricominciato a vivere quindi. No non è che siamo. Eh sono 90 di rimedo. Eh il dio Eros però bene o male abbiamo fatto credibili stesso. Beh vabbè ma adesso non voglio parlare di altre cose ma tu sei famosa. Tra altre situazioni magari ne parleremo in altre interviste. Ok. Ecco no i nostri radioascoltatori non pensino male. No 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 eh. Lavoro extra. Esatto. Passioni. Passioni. Esatto. Passioni. Però ecco ma c'è veramente nel senso 90 kg in meno ti rimettano al mondo. È un'altra persona. Esatto. Ti riaprono praticamente ad una serie di cose di cui prima ti eri privato no? Anche a livello lavorativo sai una persona tanti è brutto dirlo ma nel curriculum non guardano quello che fai ma anche come ti presenti. Quindi una persona in sovrappeso tante volte trova anche difficoltà a collocarsi nella vita lavorativa. vero ma per questo per la salute perché poi dopo le patologie no cardiovascolari sappiamo benissimo di abete robe varie che possono insorgere no poi dopo con insomma adesso non sono un medico. No no vengono fuori perché nel tempo purtroppo è una persona in sovrappeso bene o male tutti già hanno queste patruciche appena detto quindi purtroppo bisogna conviverci e noi cerchiamo di fargliele. Cioè bisogna esatto. Matteo bisogna stare bene con se stessi quindi non è che dobbiamo essere tutti scultori. No 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 secondo me no? No infatti non è che cioè non abbiamo solo quello di purloci e lì. Abbiamo parlato di questo perché è un caso eclatante. Certo. Insomma abbiamo anche persone oltre a una certa età che vengono perché hanno male all'articolazione non ce la fanno più ad alzare la gamba oppure hanno difficoltà ad alzarsi oppure la persona il ragazzo che deve fare un po' di posturale perché inizia a avere un po' di scoliosi quindi la gamba è ampia. Questo è un caso abbastanza eclatante che ha sottolineato. L'ho ricordato. No ma ricordato perché è eclatante nel senso che sono tanti chi ha perso che ha tornato in forma ma ci sono tante tipologie anche chi giustamente dice voglio l'addominale scolpito perché no ognuno c'è il suo. Dice voglio essere più grande, più grosso. Esatto cioè nel senso ognuno l'importante è che sta bene con se stesso e in salute soprattutto no? Poi viene anche quelli initi perché dici una settimana devo perdere 20 chili ci sta padre Pio gli dico. È impossibile. Devi venire e fai quando hai fatto il pietacchino quindi è l'unico che è impossibile. Perché sabato c'è un matrimonio e devo perdere 10 chili viene lunedì per sabato quindi noi gli paghiamo la corriera e va padre Pio. Sennò è impossibile. È un lavoro duro quindi che richiede un sacco di tempo vero? Costanza e sacrificio questa è la base di tutta. Ecco quello che a me manca insomma. Però in un ambiente in cui sei seguito e sei stimolato ti viene più voglia insomma ecco di perseguire il tuo obiettivo. Dopo nelle fasi più critiche appunto con l'inserimento di Giorgia abbiamo cercato di dare un ampliamento a livello anche tra virgolette rehabilitativo in maniera più efficace perché lei ha un'esperienza che è sotto questo tipo, sotto questo aspetto. Ci aiuta. Ci aiuta molto. Puoi aggiungere qualcosa a Giorgia? Sì perché capita magari che improvvisamente una persona abbia un dolore, un infortunio quindi deve sospendere per un certo periodo la palestra grazie all'aiuto di un professionista manuale ad esempio come potrebbe esserlo un massofisioterapista il recupero è molto più veloce quindi la persona può ritornare all'attività funzionale in un periodo molto più breve. Non deve aspettare quindi tanto tempo al fine che il dolore passi. Certo ma quindi il massofisioterapista manipola proprio cioè nel senso come funziona? Non è proprio una manipolazione quella più tipica dell'osteopata però lavora a livello manuale su più strutture sì. Ah perché mi incuriosisce? Sì diciamo che va a lavorare tramite la massoterapia ad esempio va a lavorare più su digitopressioni altre tecniche che magari se spiegate posso creare un pochino di confusione però principalmente sul massaggio diciamo. Sul massaggio? Oh bene e fanno male? Dipende dipende. Dipende dove tocchi? No dipende nel senso che non sono una che ci va troppo pesante il giusto dipende da chi ho sotto insomma. Ho capito ho capito. Accanto mai personal quindi a piani di fallerone vogliamo aggiungere qualcosa ragazzi prima di concludere la nostra intervista? Siamo perti sette giorni su sette quindi... Anche la domenica? Sì anche la domenica mattina. Mamma mia. Dalle nove e mezzogiorno. Non ci sono scuse per non venire. Esatto. Dici oh no ma io durante la settimana lavoro no pure la domenica mattina. Esatto. Quindi se hai perso l'allenamento lo recuperi perché sennò non raggiungi il tuo obiettivo. Ah cavoli voi date proprio gli obiettivi. C'è tipo alla Rocky no? Cioè è tipo figo nel senso che praticamente proprio... Fate proprio come ha fatto lui per prepararsi poi all'incontro finale diciamo. Molto pure Apollo. Molto pure Apollo. Quindi Apollo Creed. Sì 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 sì. E una cosa importante abbiamo un'applicazione dove le persone si possono prenotare. No. Si chiama Accanto My Personal e lì ognuno può prenotarsi in giornata perché appunto siamo aperti dalle 8 alle 21 anche il sabato o la domenica. Cioè quindi uno può veramente davvero venire quando vuole? Sì sì. L'applicazione appunto è come dicevo prima che abbiamo un massimo di persone che possono stare lì in un'ora. Quindi l'applicazione serve appunto per scegliere la tua fascia oraria e il tuo spazio di allenamento. Per garantire un massimo seguito. Perché non ci stanno tipo 20-30 persone insieme. Abbiamo massimo 8 persone ogni ora a disposizione. Quindi l'applicazione serve appunto per notare tra i due atti il tuo spazio e il tuo allenamento. Perché tutte e 8 già hanno un percorso diverso. Sono seguite. E' ovvio. Ovvio. Molto interessante questa realtà che ovviamente sono diversi anni che è presente sul territorio e che oggi ho avuto il piacere di scoprire però in maniera più approfondita magari rispetto al sentito di dire. E quindi sono veramente contenta di aver avuto qui con me Matteo Colibazzi, Ivan Tiburzi che sono dei personal trainer appunto e la massimo fisioterapista della dottoressa Giorgia Luciani qui su Radio FM1. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te. Accanto mai personal a Piana di Falerone.